Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno. Poco più di otto anni fa, a fine gennaio 2016, in Egitto fu rapito, torturato e ucciso dopo giorni di agonia Giulio Reggeni. Un omicidio che, lo ricordiamo tutti, scosse in profondità i rapporti Roma-Cairo. All'epoca il governo era presieduto da Matteo Renzi e il cadavere del ricercatore italiano venne fatto scoprire proprio mentre era in corso una visita d'affari condotta dalla ministra dell'industria dell'epoca, Federica Guidi. La crisi fra i due governi non si concluse in breve tempo e col passare degli anni l'affare Reggeni, grazie anche all'azione della stampa e delle organizzazioni non governative come Amnes International, ha assunto caratteristiche di rilievo internazionale, al punto che l'inizio del processo, ieri a Roma, agli agenti dei servizi egiziani accusati dell'omicidio, è stato seguito da numerose testate internazionali tra le più autorevoli, quasi più che dalla stampa italiana. Apro dunque questo episodio di Ristretto Italiano con BBC che titola Giulio Reggeni, funzionari egiziani sotto processo per la morte di uno studente italiano. Giulio Reggeni che va detto, visto che è BBC in questo caso che scrive, ma non è solo BBC che scrive, Giulio Reggeni che va detto era un ricercatore dell'università di Cambridge e in Egitto per quella ricerca era stato mandato appunto da quella università inglese. Si è aperto a Roma, scrive il sito BBC, il secondo processo contro quattro membri delle forze di sicurezza egiziane accusate dell'omicidio di uno studente italiano nel 2016. I quattro egiziani che saranno processati in contumacia negano le accuse. Giulio Reggeni, 28 anni, stava studiando per un dottorato all'università di Cambridge quando scomparve durante un viaggio di ricerca in Egitto. È sempre BBC che scrive. Giorni dopo il suo corpo mutilato fu trovato in un fosso vicino al Cairo. Successivamente l'autopsia rivelò che era stato torturato. Un caso, come vi dicevo, come riferisce BBC, che mise ad una prova le relazioni tra Italia e Egitto. Con Roma che ha ripetutamente accusato il Cairo di avere bloccato i tentativi di risalire. Alla verità, le autorità egiziane in un primo momento avevano ricostruito un omicidio maturato in un ambito di criminalità comune. Poi parlarono di un incidente stradale, poi di un fallito spaccio di droga, ancora di una rapina fallita, fino addirittura a ipotizzare un crimine passionale gay. Sempre negarono il coinvolgimento dello Stato, ma la Procura di Roma concluse che dietro tutto c'era l'apparato di sicurezza del Cairo. Un primo processo in Italia era cominciato nell'ottobre del 2021, ma fu subito sospeso in quanto non era stato possibile rintracciare gli imputati per la notifica del processo. Poi lo scorso anno la Corte Costituzionale Italiana decise che il processo può essere fatto anche in assenza degli imputati. La sentenza quindi sarà allo stesso tempo simbolica, nessuno è destinato purtroppo a pagare con la detenzione, ma anche questo poi si vedrà. Ma sarà tuttavia un punto fermo, una verità giudiziaria che fa bene a tutti, fa bene a noi italiani, a cominciare dalla famiglia di Giulio Reggeni. Nel dicembre del 2020, ricorda ancora BBC, il Parlamento europeo approvò una risoluzione nella quale rilevava che il caso Reggeni non fu un incidente isolato, ma che si verificò in un contesto di torture, morti in custodia e sparizioni forzate in tutto l'Egitto di quegli anni. Come vi dicevo in apertura, la notizia è coperta dalle maggiori testate internazionali, dalla Deutsche Welle, Al Jazeera, da Reuters, Associated Press, con ricostruzioni analoghe a quelle raccontate da BBC che vi ho citato e che non vi sto a ripetere. Forse è più interessante invece chiudere con il sito Giordano Al-Bawaba da Amman, che titola L'Italia processa quattro ufficiali egiziani per omicidio, chi sono? Dopo avere ricostruito i momenti della scomparsa, del ritrovamento, del primo processo, Al-Bawaba racconta che Reggeni all'epoca aveva 26 anni, stava conducendo ricerche universitarie sui sindacati egiziani quando fu rapito e che al momento del ritrovamento cinque denti e quindici ossa erano rotti, che sul suo corpo vennero trovate lettere marchiate col fuoco e che i quattro imputati sono dei servizi. Imputati comunque, fa notare il giornale Giordano, già assolti nel 2020 dalla procura egiziana che non intraprese nei loro confronti alcuna azione legale. Loro semplicemente avevano scambiato il giovane che facendo ricerca sui sindacati stava toccando un nervo altamente scoperto, lo avevano accusato di essere una spia a servizio di una entità straniera. Voltiamo pagina lasciando per oggi questa dolorosissima ferita non ancora rimarginata e passo alla drammatica situazione dell'inquinamento in Valle Padana che, se possibile, aggrava ulteriormente la già grave emergenza climatica. Da Londra, The Independent titola Milano vieta i mezzi pesanti e impone misure antismog per il pesante inquinamento atmosferico. Nello scorso fine settimana a Milano è stata la terza città più inquinata del mondo. Le misure vietano la circolazione diurna dei veicoli a motore pesanti, impongono limitazioni al riscaldamento domestico e alle attività agricole in nove province della Lombardia. Dell'ondata di siccità e di calore del tutto anomalo nel nostro paese, scrive anche il settimanale ciziano IUM 7, sette giorni, titolando Gli italiani fuggono sulle spiagge a causa di una insolita ondata di caldo invernale. I 18 gradi di Roma, contro una media stagionale di 12 nello scorso weekend, hanno infatti incoraggiato molti romani, molti razziali a fare una gita al mare e qualcuno ci ha anche fatto il bagno. L'Italia, scrive IUM 7, per il terzo anno consecutivo, sta attraversando l'inverno di grande siccità con implicazioni serie sulla filiera alimentare. Due notizie che riguardano la neve, nei pochi posti dove la neve continua comunque ad esserci in Italia, due notizie che riguardano gli sciatori. Una, che riprendo dallo svizzero Zuri Today, è quella di quel coglione di sciatore, e mi scuso per la parola sciatore, che si è autofilmato mentre a tutta velocità su una pista inseguiva un lupo terrorizzato che poi è andato a sbattere contro una rete. È accaduto sul passo di Pampeago in Trentino e il video che lui stesso ha messo in rete ha sollevato uno scandalo, video che trovate linkato nella newsletter di oggi. Notizia commentata anche dallo spagnolo Nevasport, che considera come questo episodio dimostri ancora una volta la poca cultura del rispetto dell'ambiente e della fauna selvatica. Il lupo evidentemente si è sentito inseguito dall'uomo che stava scendendo a grande velocità e cercando una via di fuga si è però schiantato contro le reti di protezione. Dice anche che nonostante uno youtuber esperto di branchi della valle di fiemme abbia avvisato la guardia forestale per trovare l'animale e verificare se fosse ferito, del lupo non si è trovata traccia. L'internazionale protezione animali ha presentato comunque una denuncia alla procura di Trento nella speranza di poter risalire all'autore. Sempre sci per chiudere scrivono alcuni giornali belghi e francesi come West France che un gruppo di turisti belgi al loro ritorno dopo una vacanza a Livigno in Italia al confine con la Svizzera hanno trovato nella cassetta delle lettere una serie di contravvenzioni per eccesso di velocità, non sulle strade bensì sulla neve. A malapena ricordavano di essere stati fermati al termine di una pista nera dalla polizia che li identificò. Dicono di avere firmato documenti senza capire bene che cosa stavano firmando nonostante le traduzioni sommarie in inglese da parte di un poliziotto e che quando sono tornati si sono visti contestare una velocità di 85 km all'ora in discesa e si sono visti sanzionare per 50 euro a testa. Evidentemente non sapevano che in Italia, uno dei pochi paesi che ha adottato una regolamentazione del genere, in Italia esiste un codice delle piste molto simile a quello delle strade con limiti di velocità, dare la precedenza, divieti di sorpasso quando serve eccetera e devono avere pensato che quegli strani segnali a bordo pista fossero qualcosa di pubblicitario. Ora lo sanno. Detto questo. Vi saluto, vi aspetto domani. Buona giornata a tutti.